Musica Paura coronavirus, un altro falso allarme, nuovo caso sospetto in Campania, un 42enne di fratta maggiore ricoverato all'ospedale di Giuliano, il test ha dato esito negativo, intanto De Luca riunisce lunedì l'unità di crisi della regione. Coronavirus, preside, cancella la gita a Milano, il dirigente scolastico dell'Istituto Trani di Salerno ha deciso di sospendere la gita degli studenti in Lombardia, negativi test per i casi sospetti che si sono registrati nel Salernitano e intanto il governatore invita i presidi a cancellare le gite. Corsa nelle farmacie per amuchine e mascherine, smentito al Moscati di Avelino il ricovero di una paziente cinese ma intanto dilaga la psicosi di coronavirus, i 10 comportamenti consigliati dal Ministero della Salute per evitare il contagio. Benevento Mastella ritira le dimissioni, l'annuncio in diretta tv su 8 Channel 696 sui motivi che lo hanno spinto a tornare al suo posto, scongiurato il voto anticipato, decisivo un sondaggio, la maggioranza dei cittadini vuole che il sindaco continui il suo lavoro e lui conferma ora un patto per la città. Bomba davanti la scuola, preso un 19enne, un ordigno è stato fatto esplodere davanti all'istituto superiore Amatucci di Viale Italia ad Avellino, panico ma nessun ferito, gli artificieri hanno trovato pezzi di materiale esplodente in un tombino, indagini lampo, la polizia ferma uno studente, è stata una bravata. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di virus, di cosa, ce ne sono tantissime. Quindi mi auguro che si debbelerà questa anche al più presto. Un po' di timore ci sta. Un pochino sì, però in realtà non è che possiamo fermarci o non andare avanti nelle nostre attività, quindi dobbiamo andare avanti. Anche il mondo della scuola è in allerta. Il governatore De Luca ha infatti invitato tutti i dirigenti campani a sospendere l'organizzazione delle gite scolastiche per motivi precauzionali. Prima della richiesta di De Luca, il preside dell'Istituto Trani di Salerno ai microfoni di 8 Channel aveva già anticipato di aver annullato un viaggio di istruzione previsto nei prossimi giorni a Milano. La priorità è garantire la sicurezza degli studenti. Sentiamo Sara Botte. L'allarme da coronavirus arriva anche nel mondo della scuola. Il presidente Vincenzo De Luca, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, ha invitato infatti i dirigenti a sospendere l'organizzazione delle gite scolastiche per motivi precauzionali. Ad anticipare la richiesta del governatore, il preside dell'Istituto Trani Moscati di Salerno, Claudio Nadeo, che ai microfoni di 8 Channel ha comunicato di aver annullato il viaggio di istruzione alla Fiera di Milano, previsto per il 29 febbraio prossimo, imposto anche il blocco dei viaggi all'estero. Noi che siamo, come dire, preposti a tutelare la salute e la sicurezza ogni giorno dei nostri studenti, e questo è, posso dire, la priorità e la preoccupazione principale di ogni dirigente scolastico, ci troviamo ad essere di fronte all'imprevedibile. Il problema quindi diventa, uno, è quella la tutela della salute, due, però, noi dirigenti siamo esposti, perché le procedure per organizzare un viaggio di istruzione certamente non si mettono in moto il giorno prima o la settimana scorsa, ma in molti casi abbiamo già versato e presi degli impegni, diciamo, contrattuali. Sotto questo aspetto anche le polizze assicurative non ci tutelano. Avremo la necessità di aggiornare i nostri DVR, i documenti della valutazione dei rischi, in quanto sicuramente era un qualcosa di imprevedibile che non potevamo conoscere. E nel Sannio rientreranno regolarmente gli studenti di Sant'Agata dei Goti in gita a Milano e Verona. Il sindaco spiega che i ragazzi e gli accompagnatori faranno ritorno nelle loro case e seguiranno le linee guida del Ministero sotto controllo del medico di famiglia, cui spetterà a decidere caso per caso le misure da adottare. Il primo cittadino invita tutti ad affrontare il problema con attenzione, ma senza paura. Ci stiamo continuamente interfacciando con tutte le autorità sanitarie del territorio, assicura la fascia tricolore Giovannina Piccoli. Proseguiamo con questo ampio primo piano sul coronavirus. Farmacie prese d'assalto, monta la preoccupazione tra la gente. Nei prossimi giorni un piano anche in Irpinia, ma intanto è stato smentito il caso di una paziente cinese in isolamento al Moscati. Vediamo. Smentito all'ospedale Moscati di Avellino il ricovero nella serata di ieri di una paziente cinese, ma intanto dilaga la psicosi coronavirus. Farmacie prese d'assalto per mascherine e amuchina e le scorte stanno terminando. Le precauzioni sono le solite, quindi le mascherine, gel, igienizzanti, le mani, senza bisogno d'acqua come la più famosa, la muchina gel e altri. Sono queste alla fine le precauzioni. Anche se bisogna dire la verità, le scorte stanno terminando ed è molto difficile reperirne altre. Fino a ieri c'era molta ironia sull'argomento. Da quando invece sono verificati i primi casi in Italia è cambiato un po' nell'immaginario collettivo la preoccupazione per l'evento. L'ASL di Avellino ha provveduto a mettere in essere quanto previsto dalla circolare regionale anche in accordo con il Moscati, l'ordine dei medici, direttori dei presidi, ospedalieri e aziendali e la centrale operativa del 118. Nei prossimi giorni si predisporrà un piano per gestire eventualmente l'emergenza alla luce dei primi casi e delle prime vittime registrate anche in Italia ma intanto tra la gente cresce la preoccupazione. Certamente che sono spaventata. È una cosa normale. Solo un po' di igiene in più ma niente di particolare. Almeno chi non si avvicina. Piccoli accorgimenti in più, lavarsi più spesso le mani così come dicono. Veramente mi lavo spesso. Cioè le mani, tengo molta l'igiene ma anche prima, ora ancora di più. Ci sono stati due morti già in Italia. Mamma mia, speriamo che non arrivi pure da noi. Mascherini, amuchina, lei che precazione ha adottato? Niente, niente, niente ancora. Mi ero vado in campagna per stare più tranquilli. Insomma avete sentito la preoccupazione aumenta ed è per questo che il Ministero della Salute ha emanato un decalogo con dieci consigli da seguire per evitare il contagio. Sentiamo quali sono. Non ci sono casi di coronavirus in Campania. L'allerta è rientrata sia per il bulgaro ricoverato a Pineta Grande di Castelvolturno che per il bimbo di Cava dei Tirreni. Non ci sono casi, fortunatamente, ma la psicosi resta. Anzi, la preoccupazione è aumentata dopo i casi accertati in Lombardia. E il Ministero della Salute ha dunque diffuso in queste ore una serie di video per rispondere alle principali domande e quali le necessarie precauzioni da assumere. Un decalogo con dieci semplici regole per aiutare a prevenire e combattere il coronavirus. Dall'igiene personale a come riconoscere le fake news. Per prima cosa bisogna lavarsi spesso le mani. Tra le regole c'è anche quella di evitare il contatto ravvicinato con le persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Al terzo posto c'è il consiglio di non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani, come pure coprissi la bocca e il naso se starnutisci o tossisci. E poi non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico. Pulisci le superfici, sta scritto, con disinfettanti a base di cloro o alcol. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate. E poi i prodotti made in Cina e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. Contatta il numero verde 1500 se hai la febbre o tosse e se sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni. E infine, gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. Cambiamo argomento. Schianto in auto nelle campagne di Sansossio Baronia, fiato sospeso per le sorti di una ventenne ricoverata in gravi condizioni al Cardarelli, a seguito delle lesioni riportate nel violento impatto. La giovane era alla guida della sua auto da sola quando per causa in corso di accertamento è uscita fuori strada e si è schiantata contro un muretto di cemento. Tornava da una festa con un amico che aveva lasciato poco prima, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane di Ariano dopo essere stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico e stata trasferita nel pomeriggio in elia ambulanza a Napoli, dove è in prognosi riservata. Clemente Mastella ritira le dimissioni e in diretta tv spiega mai più con i succhi a ruote, un patto per la città con i consiglieri di buona volontà. Annuncia cambi in giunta e per le regionali smentisce ogni ipotesi di candidatura. Sentiamo De Lucia. Non potevo permettere questa congiura contro la città. Così Clemente Mastella in diretta tv su 8 Channel 696 ha spiegato le motivazioni che lo hanno indotto a ritirare le dimissioni dalla carica di sindaco presentate lo scorso 2 febbraio e a proseguire con il suo mandato. Non sto con i miscredenti, di quelli che hanno tentato di immaginare che a marzo mi fregavano mettendomi e facendomi saltare sul bilancio. Già era tutto ipotecato questa sorta di congiura, che non è una congiura contro di me. Io posso finire qua, è una congiura contro la città. Ho presentato le dimissioni perché un consiglio comunale che doveva essere coeso continuava ad avanzare, richieste politiche. Quindi dopo essere stati eletti nelle mie liste, avendo fatto i succhi a ruote, sono finiti in modelli che certamente non mi hanno gratificato né io ho gradito. Sgombra il campo da eventuali candidature alla regione e annuncia come intende procedere a Palazzo Mosti. Qualcosa va anche cambiato. Io farò un'aggiunta un po' diversa da quella che ho. Apporterò alcuni cambi attingendo alla società civile. Il mio patto è quello che chiedo ai consiglieri di buona volontà, perché io non voglio ritornare a stringere patti con quelli che mi hanno determinato queste condizioni di difficoltà in consiglio comunale. Un patto per la città, una coalizione di buona volontà a quelli che evidentemente vogliono guardare alla città, al di là del perimetro della maggioranza, nello stesso dialogo tra maggioranza e opposizione a livello istituzionale. Immediata la risposta del PD Sannita che parla di sceneggiata deprimente e rilancia. Siamo all'opposizione e ci resteremo. A Lusciano i carabinieri di Castello di Cisterna hanno rintracciato e arrestato Gennaro Antonio Sautto, 39enne di Napoli, elemento di spicco del clan Sautto Ciccarelli di Caivano e fratello del capo clan Nicola, attualmente detenuto. Il latitante lo scorso 12 novembre si era sottratto ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA Partenopea per associazione per delinquere di tipo mafioso. È stato identificato e denunciato l'autore della bomba carta esplosa questa mattina davanti l'istituto Amatucci di Avellino. Si tratta di uno studente di 19 anni. Il preside Caterini prenderemo seri provvedimenti nei suoi confronti. Sentiamo Paola Iandolo. Sono servite poche ore di indagini per individuare il responsabile dell'esplosione avvenuta questa mattina davanti all'istituto scolastico Alfredo Amatucci di Viale Italia. Grazie anche alle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, la polizia lo ha identificato in un diciannovenne incensurato residente in provincia di Avellino. Rintracciato all'interno dell'istituto il ragazzo ha subito ammesso di aver fatto esplodere il petardo senza alcun particolare motivo ma solo per compiere una bravata e senza rendersi conto della gravità del gesto che fortunatamente non ha causato danni a persone o cose. L'esplosione aveva comunque creato panico in città, si era avvertita a largo raggio e per questo motivo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia scientifica per i rilievi. Anche il preside della Amatucci Pietro Caterini è arrivato immediatamente sul posto che ha precisato si tratta di un episodio che ha interessato un alunno del nostro istituto che sarà interessato da un consiglio straordinario di classe che provvederà a combinare una severa sanzione disciplinare nei confronti dell'alunno al fine che tali episodi non possano accadere più e vengano considerati atti isolati nei confronti della stragrande popolazione studentesca della Amatucci che si impegna nello studio e che ha alto il senso del dovere e del rispetto. E ancora in rianimazione ma non in pericolo di vita la 34enne di Olevano sul Tusciano, Salerno accoltellata alla gola dal marito che poi si è suicidato. Aveva denunciato per molesti l'uomo ben quattro volte, accusano i familiari. Sentiamo il servizio. Migliorano le condizioni della 34enne di Olevano sul Tusciano, comune del Salernitano accoltellata alla gola dal marito che poi si è tolto la vita. La giovane è ancora in coma farmacologico ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno ma respira autonomamente mentre ha ancora un residuo di ematoma cerebrale. È stata vittima di un'aggressione arrivata dopo ben quattro denunce per maltrattamenti, accusano i familiari che lamentano il fatto che non siano stati presi i provvedimenti. Una tragedia che forse poteva essere evitata con un supporto maggiore. Dicono, ora la loro unica speranza è che la figlia possa riprendersi e superare questo dramma per lei e per i suoi due figli. La prognosi resta riservata ma la donna non sarebbe in pericolo di vita. Le condizioni fino a ieri sera diciamo che erano stazionali. La signora sta in coma farmacologico per, giustamente, avendo avuto un intervento sul collo dovuta a una coltellata però le situazioni diciamo stazionali non è in immedente pericolo di vita. È rianimazione? Sì, è rianimazione, intubata. È stato prima spostato e poi dato alle fiamme, distrutto all'alba un motorino in via Fricchione nei pressi del parcheggio del Teatro Gesualdo ad Avellino a spegnere le fiamme i vigili del fuoco giunti sul posto dopo le segnalazioni dei residenti arrivate alla centrale operativa intorno alle 5 del mattino. Il motorino di proprietà di un abitante della zona era parcheggiato nei pressi dell'abitazione dell'uomo poco distante in cui è stato dato alle fiamme. Il rogo è senza alcun dubbio di natura dolosa ed ora sul caso indagano le forze dell'ordine. Le fiamme, oltre a distruggere il mezzo, hanno anche danneggiato una parete del palazzo di via Fricchione. Nuovi interventi di messa in sicurezza presso la ex MCM di Fratte, il materiale tossico coperto con teli e sabbia. Il sindaco di Pellezzano ad Otto Channel dice attendiamo i risultati poi via libera alla bonifica. Il servizio. Ulteriori misure di sicurezza per evitare contaminazioni ambientali e l'attesa delle analisi per avviare al più presto la bonifica. Dopo l'allarme veleni il sindaco di Pellezzano Francesco Morra sta monitorando da vicino la situazione all'ex MCM di Fratte e lungo anche il corso del fiume Irno sul confine con Saverno. Anche questa mattina siamo qua sul posto per fare un sopralluogo per vedere come procedono i lavori di bonifica del sito. Noi abbiamo convocato più volte la ditta al comune dove ci ha portato alla documentazione inerente lo smaltimento dei rifiuti per quanto riguarda il contratto di smaltimento in essere tra le cotoniere e la suggeri. Per quanto riguarda i liquidi fuoriusciti nella notte tra sabato e domenica la ditta ha ulteriormente messo in sicurezza con dei teli e con della sabbia onde evitare ulteriori esalazioni soprattutto durante fenomeni di pioggia. È stato prelevato un campione che è andato al laboratorio di analisi. Appena aggiungeranno le analisi la ditta è pronta a poter mettere nei cassoni a trasportare a discarica autorizzata il materiale che era fuoriuscito insieme al terreno vegetale che è servito a copertura del materiale. Questo ci è stato garantito e è stata anche premura nostra preoccuparci da questo punto di vista affinché questo avvenga nel più breve tempo possibile. Ci dicono che nel giro di una settimana, massimo due, i restanti barili all'interno del sito dovranno essere stoccati come tra l'altro da contratto da parte per il smaltimento che c'era in essere. Altra giornata senza mercato ad Avellino. A Campo Genova accompagnano gli stalli ma è ancora scontro tra comune e ambulanti e l'ARPAC intima al sindaco Festa di eseguire un'attività di ripristino dell'area. Sentiamo. L'ARPAC stoppa festa sul mercato a Campo Genova in una nota firmata dal dirigente dell'area territoriale Carmelo Lomazzo che si è pronunciato su richiesta del consigliere Preziosi e detto chiaramente che in caso di chiusura di un centro raccolta rifiuti al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area deve essere redatto un piano di ripristino, insomma una sorta di bonifica e caratterizzazione dell'area che ad oggi non è stata effettuata. Dunque un round a favore di Preziosi, il primo a dire che ci volevano le autorizzazioni sanitarie e ambientali e potrebbe essere messo tutto di nuovo in discussione. Intanto anche oggi niente mercato, provocatoriamente qualcuno ha montato il suo stand, solo tanto vento e nessun affare prima di rincasare. Nell'area di Campo Genova sono comparsi i primi stalli ma anche su questo è polemica tra comune e ambulanti. Sono stati disegnati senza nessun criterio dicono gli operatori del mercato che ce ne mostrano alcuni asimmetrici, altri ostruiti da pali. Per non parlare dei parcheggi sono aree che non si possono definire tali con tutto quel terriccio. Insomma questo è ancora un cantiere ma Festa ci dice che va tutto bene e ci continua a prendere in giro. Il problema è che noi ci è stato sospeso il lavoro due mesi fa e poi si è incominciato a costruire un mercato. Siamo in balia. Dove si vanno ad incrociare in queste travesse? Come fa a girare un furgone? Come fa ad arrivare al proprio posteggio? Poi qui proprio davanti a noi c'è un palo nel bel mezzo di un posteggio. Penso che chi l'ha disegnato l'abbia visto il palo ma forse aveva ordine di disegnarlo lo stesso. Dire sempre che il mercato è pronto, nonostante il parcheggio ancora non sia definito, nonostante gli stalli ancora sono definiti. Io non lo so, è sempre colpa nostra? A Fogliano di Valfortore nel sannio seminario informativo sugli eco bonus e sisma bonus dedicato alla riqualificazione degli edifici. Un seminario organizzato dal comune Fortorino e dalla CNA per agevolare i cittadini interessati alla riqualificazione degli edifici e ottenere così sgravi fiscali. Sentiamo Alessandro Fallarino. Oggi usufruendo degli incentivi statali eco sisma bonus si accede ad una grande opportunità di riqualificazione immobiliare su tutto il territorio nazionale. Riqualificare gli immobili significa e ripristino l'adeguamento energetico e la ristrutturazione antisismica dei fabbricati. In molti casi per gli immobili fatiscenti, inagibili o ruderi si prevede anche la demolizione e la ricostruzione dell'edificio. Questo al centro del convegno ospitato oggi alla sede del comune di Fogliano di Valfortore nel sannio. Il compito dell'amministrazione è quello di mettere a conoscenza la popolazione di alcune possibilità come quella dell'eco bonus, sisma bonus e anche del bonus facciate che è stato emendato nell'ultima finanziaria. Grazie alle agevolazioni e dell'eco sisma bonus effettuando la cessione del credito d'imposta come da normativa si risparmia sul costo totale dell'intervento anche oltre l'80%. Un vantaggio importante del consorzio è quello che è aperto al territorio quindi noi arrivando in queste zone diamo la possibilità sia alle imprese che ai tecnici di potersi associare al consorzio e condividere il percorso insieme. Un'opportunità per far ripartire anche l'economia locale da aiutare le imprese del territorio. Noi crediamo che questa sia un'opportunità importantissima per il territorio in quanto in alcuni casi permette di ottenere dal 75% o all'85% di sgravi per quanto riguarda la riquilificazione sismica dei fabbricati immaginando anche abbattimento e ricostruzione quindi effettivamente noi possiamo rinnovare il nostro parco edilizio che non è in condizioni sismiche adeguate. Dopo l'intesa raggiunta al Mise l'amministratore delegato della Icoplastic di Battipaglia illustra il piano per rilanciare la Treofan l'azienda continua a puntare sull'energia pulita per la produzione dei materiali entro due anni saranno riassorbiti tutti i dipendenti. Lanzilli Tanta voglia di ripartire per mettersi definitivamente alle spalle 14 mesi di scontri e trattative poi la fumata bianca con la cessione della Treofan di Battipaglia dagli indiani di Gindal alla Icoplastic l'azienda della Piana del Sele entro due anni assorbirà tutti i dipendenti che esultano per la soluzione positiva della vertenza intanto l'amministratore delegato della Icoplastic illustra il piano di rilancio non nascondendo però le difficoltà dell'accordo sancito al Ministero dello Sviluppo Economico e la produzione di materiali continuerà nel segno del ricorso all'energia pulita per la realizzazione dei manufatti. È stato purtroppo un percorso molto difficile in realtà è culturale hanno una cultura differente dalla nostra l'obiettivo è quello di cercare di reintrodurre quanto più rapidamente possibile i lavoratori nell'ambito della nostra organizzazione quindi il nostro è un programma di reinserimento a prescindere dal progetto finale il sogno, quello è il mio sogno ci arriverò sicuramente ovviamente con l'aiuto di tutti insomma perché il percorso normativo è ostacoli nella terra del sud quello che ci manca forse è la vicinanza ai mercati oggi per carità le infrastrutture sono sempre più sviluppate però qui abbiamo un grande asset che è la creatività è su questo che io baso le mie attività insomma quindi le aziende sono fatte di uomini tutto il resto viene dopo quindi questa è la forza di questa terra a scuola senza bulli ancora una tappa del progetto della regione Campania all'istituto comprensivo di Lioni il confronto per combattere il fenomeno sentiamo ancora una tappa per il progetto scuola senza bulli la campagna di sensibilizzazione contro bullismo e cyberbullismo promossa dal comitato regionale per le comunicazioni della Campania preseduto da Domenico Falco che si è svolta all'istituto comprensivo Nino Iannacone di Lioni all'iniziativa hanno preso parte anche la presidente del consiglio regionale Rosetta D'Amelio stiamo facendo queste importanti iniziative per la prevenzione e per lanciare allarmi su un fenomeno che colpisce in tutte le parti del nostro paese e della regione Campania i dati Istat ci dicono che un ragazzo su due tra gli 11 e 17 anni afferma di essere stato vittima di episodi offensivi ha affermato Nicola la sala funzionario del servizio ispettivo della Gcom avviare queste campagne di formazione delle scuole può aiutare i ragazzi a capire l'importanza dell'accoglienza dell'altro della parola, del valore che ha la parola affinché sia sempre una parola che crei ponti che crei amicizie, che crei collegamenti e mai rotture soddisfazione espressa anche dai rappresentanti delle istituzioni locali presenti come Domenica Gallo, vice sindaco del comune di Lioni e Stefano Farina, sindaco del comune di Teora La rete istituzionale è l'espediente giusto per poter evitare che alcuni fenomeni come quello del bullismo continuino a propagandare la loro dinamica negativa Io immaginavo che i nostri paesi molto piccoli a misura d'uomo fossero immuni invece con le nuove tecnologie il pericolo arriva da lontano Noi dobbiamo capire che in questa fase dobbiamo aiutare i ragazzi a crescere e a costruire una visione della vita e del mondo Ci fermiamo qui, grazie in regia ad Orlando Matarazzo Vi lascio alle previsioni del tempo Buona serata, arrivederci Buona serata, arrivederci Buona serata, arrivederci